Esercizio per svegliare la voce, perché molto spesso mi sento chiedere Ale, ma cos'è che dobbiamo fare per scaldare la voce, eccetera. La confusione che si crea tra il concetto di scaldare la voce, il concetto di svegliarla, attivarla e il concetto di allenarla è una confusione abissale. Ora non voglio entrare adesso nei discorsi, ma voglio subito fare questo esercizio, perché quello che serve in realtà, anche quando avete poco tempo la mattina e volete un attimo riattivare le cose e mettere così, strizzare un po' i succhi dentro il corpo, è semplicemente un lavoro di coordinamento. Cosa vuol dire? Vuol dire che io devo svegliare le sensazioni fisiche che mi servono e abituare la mente a stare attenta a quello che deve fare. È più complicato da spiegare che da fare. Facciamo un esercizio semplice che è quello di ispirare bene e profondamente, allargare bene la gabbia toracica, proprio prendere tutta l'aria che ci serve e poi coordinare la muscolatura che dal basso porta il suono, diciamo così, l'aria che si trasforma in suono, verso le zone di risonanza con un semplicissimo lip trail. Chi mi conosce sa che io lo uso tantissimo perché è molto utile, perché evita l'idea dell'ansia da prestazione, perché se io sto a fare... è chiaro che non ho tante tante aspettative e quindi mi posso lasciare andare a non ascoltare troppo il tipo di suono che emetto, ma a lavorare semplicemente proprio su questo coordinamento muscolare. Cos'è che vado a fare? Una semplice sirena. Cioè, prendo l'aria. Quando arriviamo in alto, facciamo attenzione a questa cosa qua. Guardiamoci. Se il collo comincia a fare... E si strizza vuol dire che invece che appoggiarci sul respiro ci stiamo in qualche modo attaccando alla muscolatura del collo e quindi stiamo stringendo. Noi vogliamo invece che questa cosa non succeda. Allora, se ci coordiniamo sulla sensazione dell'ombelico, la sensazione dell'apertura qua e lasciamo andare la muscolatura del collo quando sentiamo che vuole attivarsi, siamo già a un ottimo punto di riscaldamento. Proviamo un'altra volta insieme. Prendo il respiro. E devo riuscire a lasciare andare. Ora, ovviamente, se in fondo arrivo senza aria, in qualche modo comincerò a compensare. Ma, naturalmente, questo era una cosa per farvi vedere. Ora, vi saluto tutti quelli che ci sono. Un abbraccio a tutti. Mi fa piacere se provate questi esercizi. Mi fate sapere se funzionano. E se avete bisogno di qualsiasi cosa, fate un fischio. Ricordo a tutti quelli che mi seguono, intanto grazie a tutti, che stiamo lentamente riprendendo a fare i seminari in presenza con grandissima attenzione. Quindi, per adesso sono attivi i seminari che io tengo ad Arezzo una volta al mese. Uno è già al completo, per l'altro sono rimasti solo cinque posti. Se qualcuno è interessato, mi raccomando, non aspettate troppo. Altra cosa, da tantissimo tempo sto lavorando con i corsi online, perché quelli sono veramente come avere accanto il manuale, il testo, diciamo così. Andate a vederveli e tutto il resto. Il concetto è non rimanete con le mani in mano se cantare è una vostra passione. Ok? Ora, per una volta, non mi dimentico di salutare tutti quelli che ci sono. Buongiorno di buona vita, grazie altrettanto. Buongiorno mai carissima Eva, buongiorno Silvana, Arianna, sono tutti dei bellissimi buongiorno. Non so perché ho girato qua, ma perché sono un disastro. Ok, vi saluto. Naturalmente le sirene sono utili anche quando avete attivato bene per tornare indietro. Quindi, laddove il coordinamento è divertente, è che io devo continuare a percepire l'aria che sale, anche se sto scendendo. Contro intuitivo, ma fondamentale. Ok? Vi ricordo, coordinamento muscolare, quindi come prendo l'aria, come la spingo, come continuo a spingerla, come la posiziono e come faccio attenzione, coordinando appunto anche un po' la mente, a non irrigidire il collo quando arrivo in zone apparentemente scomode. Ok? Aspettate i vostri commenti e soprattutto le vostre prove. Un bacio. Ah, trovate tutto il mio materiale sul sito cantafinoallestelle.com Ciao!